Buonanotte mondo, favole della buonanotte per bambini di tutto il mondo, è la raccolta di favole nata da un'idea della cooperativa sociale On The Road che dal 1994 si batte per la tutela e la promozione dei diritti umani e civili. Ne parliamo con Sara Palanca del coordinamento del progetto SAI di Ripa Transone. Allora Sara, come nasce l'idea di realizzare questo volume bilingue, ricordiamo? Sì, il volume è un volume bilingue che nasce principalmente dall'osservazione. Nel nostro quotidiano noi osserviamo le donne insieme ai bambini che raccontano storie e le nostre ospiti provengono appunto da ogni parte del mondo, da ogni angolo del mondo e da lì è nata un po' la nostra curiosità, curiosità nell'interrogarci se queste fiabe sono simili alle nostre, hanno una narrativa che in qualche modo coincide magari con le nostre favole più conosciute e più famose. E quindi da qui nasce un po' l'idea. Ecco, chi ha collaborato a questa iniziativa e com'è possibile acquistare il libro? Allora, il libro nasce appunto all'interno del progetto SAI. Hanno collaborato quindi nella realizzazione tutte le donne e gli uomini e i ragazzi che beneficiano del progetto SAI, quindi sono ospiti del progetto SAI. Loro hanno appunto apportato un contributo importante perché grazie a loro abbiamo potuto trascrivere nella loro lingua madre le fiabe e poi noi, noi operatori e collaboratori come i mediatori culturali che sono sempre fondamentali nel nostro progetto. Lì ci sono anche poi delle immagini? Sì, le immagini sono state realizzate da una illustratrice, Giorgia Zecca, che ha collaborato con noi e siamo poi felici di invitarvi anche a dei futuri eventi che realizzeremo dove il libro sarà con noi e lo porteremo diciamo in giro fra i vari appuntamenti che stiamo realizzando sul territorio. Fra tutti un appuntamento che a breve realizzeremo proprio nel comune di Ripatranzone per presentare il libro dove con molta probabilità riuscirà a raggiungerci anche l'illustratrice. Ecco, lei ha parlato di progetto SAI, come si articola? Il progetto SAI è un progetto di seconda accoglienza. Questo cosa significa? Significa che le persone che arrivano nei nostri progetti sono persone che fanno domanda di richiesta asilo, sono persone quindi che hanno varie vulnerabilità. Quello che il progetto punta, l'aspetto su cui il progetto punta principalmente è quello di analizzare e studiare con loro le loro risorse personali, cercare di metterle in campo e creare con loro un futuro possibile in Italia dove naturalmente la loro presenza non è solo vista esclusivamente come una persona che dobbiamo aiutare, una persona che deve per forza e necessariamente avere dei servizi da parte dello Stato ma una persona che può offrire tanto all'Italia con la sua professionalità. Ad oggi quali sono le difficoltà maggiori che riscontrate? Le difficoltà maggiori all'interno del progetto nella gestione quotidiana in realtà non ce ne sono tante nella misura in cui l'esperienza maturata negli anni ci permette comunque di riuscire a creare una giusta collaborazione con i vari servizi e le varie agenzie presenti sul territorio. Naturalmente resta poi la difficoltà di lasciare il progetto e crearsi una propria strada. Dov'è possibile acquistare il libro? Il libro sarà disponibile sicuramente sui nostri canali social quindi potete tranquillamente seguirci e seguirà i vari eventi che noi realizzeremo sul territorio e sarà possibile acquistarlo attraverso una donazione. Grazie, grazie a Sara Palanca per essere stata in nostra compagnia. Buon proseguimento su Radio Azzurra.